È notte, nevica incessantemente, è domenica 15 gennaio, alla guida del fuoristrada c'è Roberto Del Rosso, il proprietario dell'hotel Rigopiano, che sta portando al resort una coppia di ospiti rimasti in panne con la propria autovettura al bivio di Farindola, a 10 km dalla struttura. L'auto viene lasciata lì e Del Rosso porta gli ospiti all'hotel, provvedendo poi il giorno dopo a spostarla e metterla al sicuro. Sono le 22. La mattina seguente da una camera lo scenario è questo, sulla sinistra il fuoristrada del proprietario, coperto di neve, sulla destra si intravede il tetto della cupola della spa. La sera di lunedì la neve è aumentata e si intravede appena il tavolo e le sedie situate a poca distanza. Martedì mattina invece non si distingue più nulla, continua a nevicare e anche l'area della piscina è quasi coperta completamente dalla neve. Si vedono le due mascotte, i pastori abruzzesi in nuvola e lupo ritrovati, vivi a qualche chilometro di distanza dal resort. È l'ultimo filmato della coppia prima di lasciare la struttura e tornare a casa dopo l'arrivo degli spazzaneve, che hanno liberato la strada per le auto degli ospiti in partenza. Dalle immagini rese pubbliche dai vigili del fuoco dopo la slavina che mercoledì 18 alle 17.30 ha travolto l'intera struttura, intrappolando tutte le persone al suo interno, si intravede solo l'area della piscina, situata davanti all'hotel. La forza dell'urto ha travolto la struttura principale, quella con le camere, il ristorante, la cucina dove sarebbe stato ritrovato il primo gruppo di persone, la sala biliardo dove si trovavano i bambini, la hall e il bar. Si vedono solo i vetri e la coltre di neve che la circonda. Secondo la testimonianza della coppia, l'uomo già martedì avrebbe richiesto l'intervento della provincia per l'arrivo degli spazzaneve, provvedendo intanto a ripulire l'area esterna dell'hotel. Sua abitudine è quella di trasportare con mezzi propri gli ospiti in difficoltà per via delle condizioni stradali, ma questa volta aveva provato anche ad utilizzare un mezzo per pulire la strada, ricevendo poi l'ordine di non procedere in attesa dell'arrivo degli spazzaneve. La coppia ha poi raccontato di come i lavori di pulitura dell'esterno della struttura da parte del personale fossero andati avanti anche tutta la notte. Resta per ora questo video dove si sente del rosso parlare con l'ospite delle difficoltà di transito delle auto di città e dell'utilità del suo fuoristrada per quelle strade.